Il commissario per la ricostruzione post-sisma 2016, Piero Farabolini, ha dato l'ok alla proroga fin troppo attesa dai proprietari di casa interessati da danni lievi e dai tecnici che ne dovranno seguire i progetti. I termini per la presentazione delle richieste di contributo per i lavori slittano dunque fino a fine dicembre prossimo. Avevamo lanciato un appello per la proroga che è stata emanata con un'ordinanza del commissario quindi al 31 dicembre 2019 invece del 30 giugno che sarebbe scaduto domani. Adesso la ricostruzione può andare avanti, c'è bisogno di potenziare il personale dell'ufficio speciale per ricostruzione e soprattutto c'è bisogno di applicare quella normativa che fu emanata nel decreto legge Morandi. Per l'anticipazione dei tecnici del 50% le somme dovute perché gli studi tecnici stanno lavorando, stanno mettendo risorse fisiche e anche economiche e c'è bisogno che vengano retribuiti. Quindi bene la proroga ma andiamo avanti con gli altri provvedimenti necessari. Una situazione ovviamente che era fortemente richiesta dagli ordini professionali però bisogna assolutamente cambiare passo. Sì sono anni che facciamo tavoli di lavoro e ormai le criticità sono note, bisogna risolverle, so che a livello politico ci sono dei problemi, per le anticipazioni sono dei problemi con gli istituti di credito che siano detti disponibili, però i cittadini stanno aspettando risposte e le risposte vanno date nell'immediato. Che poi la cosa più assurda è che la ricostruzione leggera è quella che interessa di più a livello assoluto i numeri della ricostruzione stessa? Sì che è quella che poi sta drenando più risorse per l'autonoma sistemazione e soprattutto è quella che sta allontanando dalle nostre città, dal copoluogo soprattutto, molti cittadini che purtroppo poi a Terramo non torneranno.